Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale! Finalmente rieccoci con un nuovo video e oggi parleremo di cristalli. Nello specifico volevo fare un video che fosse anche utile per voi perché parleremo dei sei errori più comuni che vedo fare alle persone quando si parla di purificazione e ricarica dei cristalli che è un argomento di cui mi chiedete veramente spessissimo. Ho veramente messaggi Instagram intasati di vostre domande su questo argomento e in questo video racchiuderemo un po' tutte quelle cose che non dovreste mai e poi mai fare quando si parla appunto di purificazione e ricarica dei cristalli quindi della regolare manutenzione delle vostre pietre. È importantissimo farlo perché i cristalli e le loro energie hanno bisogno appunto di piccoli accorgimenti e di alcuni processi che bisognerebbe fare regolarmente che sono appunto il processo di purificazione e ricarica di cui in realtà abbiamo parlato anche qui su YouTube perché vi ho fatto un sacco di tempo fa un video completo su tutti i metodi di purificazione e ricarica quindi potete andare a recuperare quel video se non sapete assolutamente di cosa sto parlando. Iniziamo dalla prima cosa che non dovreste mai fare e cioè invertire i vari metodi di purificazione e ricarica. Questa cosa la vedo fare moltissimo col metodo della luna. C'è infatti in giro questa credenza che la luna purifichi i cristalli quando invece fa il contrario e li ricarica e se noi esponiamo i nostri cristalli alla luce della luna se non li abbiamo prima purificati in realtà quello che farà l'energia lunare è andare ad amplificare tutte quelle energie indesiderate di cui in realtà ci vorremmo sbarazzare quindi mi raccomando questo è importantissimo. E in generale un altro errore che vedo fare molto spesso è quello di ricaricare i cristalli senza averli prima purificati. Non è assolutamente una cosa efficace da fare. È importantissimo che questi due passaggi vadano sempre in coppia quindi prima si purifica e poi si ricarica i cristalli in modo da avere le loro energie sempre sintonizzate alla giusta frequenza che quindi siano utili per noi e non ci possano danneggiare in qualche modo. Ovviamente non ci saranno mai effetti collaterali super gravi se si sbaglia a purificare e ricaricare i cristalli ve lo dico sempre ho fatto anche un video al riguardo però se noi vogliamo utilizzare i cristalli come uno strumento che ci possa fare bene, che ci possa aiutare nella nostra crescita nel nostro benessere è importante prestare attenzione a tutti i vari passaggi. Altro errore che non dovremmo mai fare è quello di dimenticarci di purificare e ricaricare tutti quei cristalli che utilizziamo un pochino più spesso e parlo soprattutto dei gioielli con cristalli quindi tutte quelle pietre che indossiamo giornalmente o molto molto spesso. Questi cristalli che sono spessissimo a contatto con le nostre energie infatti magazzinano tantissime di quelle che sono quelle energie indesiderate e se noi non li purifichiamo e ricarichiamo con la giusta frequenza che dovrebbe essere almeno ogni 2-3 giorni come minimo allora sicuramente incorreremmo in piccoli effetti collaterali anche in questo caso oppure quel cristallo semplicemente non ha quell'effetto benefico che ci aspettiamo da lui e quindi può anche risultare addirittura controproducente indossarlo tutti i giorni quindi potremmo sentire proprio delle sensazioni di quasi lieve disagio quando lo indossiamo insomma poi ognuno è sensibile alle energie in modo diverso e anche in questo caso il modo in cui sentiamo le energie è molto molto personale molto vario però mi raccomando soprattutto per quei cristalli che usate spesso ricordatevi di purificarli e ricaricarli altrettanto spesso e parlando di tempistiche ci ricolleghiamo un po' con il prossimo errore che vedo fare spesso che è quello di purificare e ricaricare i cristalli per troppo poco tempo ci sono dei metodi di purificazione e ricarica che sono piuttosto lunghi e quindi bisogna lasciare lì le pietre a purificare e ricaricare per diverse ore anche a volte parlando ad esempio del metodo del sale magari spesso mi scrivete che lasciate a purificare il cristallo per una mezz'oretta non è un tempo sufficiente ad esempio il metodo del sale richiede una tempistica di circa 8 ore fino ad un massimo di 24 ore io ad esempio lascio a purificare i miei cristalli per la maggior parte dei metodi non per tutti come minimo una notte intera quindi sono comoda magari a lasciarli una notte intera sulla drusa diametista ad esempio e poi recuperarli la mattina dopo che sono già super purificati e ricaricati ci sono altri metodi che sono addirittura ancora più lunghi come il metodo della terra che richiede invece un minimo di 24 ore fino ad addirittura 48 ore quindi è importantissimo sapere tutte le tempistiche adeguate per purificare e ricaricare i cristalli se no i nostri metodi saranno abbastanza blandi e non andremo in profondità come dovremmo andare parlando di metodo del sale un altro grandissimo errore è quello di utilizzare il metodo diretto del sale per tutti i cristalli non c'è niente di peggio perché il sale a lungo andare potrebbe andare a rovinare i nostri cristalli ovviamente ce ne sono di più resistenti di meno resistenti quindi non parlo di tutti i cristalli generalmente se sono più duri sulla scala di moss va benissimo lasciarli a contatto diretto con il sale ma io per non rischiare utilizzo sempre il metodo indiretto e vi ho parlato di questo metodo e vi spiego passo passo come farlo nel mio video sulla purificazione ricarica che ho fatto qualche anno fa ormai ma comunque sempre molto valido quindi comunque oltre ad avervi lasciato il link in alto ve lo lascio anche giù nell'info box così potete andare a recuperarlo se ancora non l'avete visto e parlando di metodi dannosi per i nostri cristalli un altro grave errore è quello di utilizzare appunto questi metodi invasivi come può essere il sale come può essere l'acqua come può essere il sole senza andare a documentarci se può andare effettivamente bene per i nostri cristalli perché appunto parlo soprattutto dell'acqua e del sole che sono metodi che non si possono fare in modo indiretto e quindi sicuro per tutti i cristalli come invece per il sale bisognerebbe andare a documentarsi se appunto non è dannoso per il cristallo che vogliamo purificare per noi infatti questi due metodi potrebbero andare a rovinare fisicamente alcuni dei nostri cristalli quindi è importantissimo documentarsi prima se quel metodo può essere adatto oppure no alla nostra pietra proprio per non rovinarla sarebbe veramente un peccato ultima cosa da non fare che riguarda la purificazione ricarica dei cristalli è quello di lasciar toccare tutte le nostre pietre da chiunque e poi non andarli a ripurificare e ricaricare questo perché come sappiamo i cristalli immagazzinano le energie che provengono da altre persone o dall'ambiente in cui sono quindi se vengono toccate da qualcun altro ma direi anche se semplicemente invitate qualcuno a casa vostra quello che farei io è fare una piccola purificazione un po' a tutti che magari non così lunga e invasiva senza utilizzare 8000 metodi lunghissimi ma anche solo passare un pochino di incenso sulle pietre giusto per rinfrescare le loro energie questo perché come vi ho detto prima il cristallo avrà appunto immagazzinato le energie di quella persona che ovviamente non saranno energie negative non vi dico che tutte le persone che varcano la soglia di casa vostra vi portano negatività assolutamente però è importante che i cristalli siano sempre diciamo sintonizzati sulle vostre di frequenze e non su quelle altrui per essere efficaci per il lavoro che fate voi con loro e non qualcun altro quindi andiamo un pochino a risintonizzare le loro frequenze con le nostre facendo una piccola manutenzione ogni volta che magari qualcun altro li tocca questo è veramente veramente molto importante un'eccezione a questa cosa è quando parliamo di persone con cui viviamo nella stessa casa ovviamente le energie vanno così a mescolarsi è normale che il cristallo entra in contatto anche con le energie di quella persona che vive in casa con voi e quindi non è così grave se magari vostro figlio, vostro marito, vostro partner chiunque della vostra famiglia che vive con voi tocca quel cristallo in quel caso ovviamente il cristallo sarà un pochino più abituato alle energie di tutte le persone che vivono in casa con voi e quindi non è così necessaria è una purificazione immediata subito dopo detto questo concludo questo video dicendovi una meravigliosa novità se siete arrivati fino alla fine vuol dire che siete interessati a imparare di più sulla purificazione, ricarica e programmazione dei cristalli quindi sono felicissima di annunciarvi che ho creato il mio primo ebook appunto su questo argomento si intitola riattiva i tuoi cristalli ed è una guida pdf che potete acquistare direttamente nel mio shop e vi lascio il link diretto in infobox è una guida completa alla purificazione e ricarica dei cristalli al suo interno troverete tutto quello che vi serve per purificare e ricaricare i vostri cristalli quindi ci sono tutti i metodi anche quelli meno conosciuti spiegati passo passo come farli, ogni quanto farli e per quanto tempo farli ci sono veramente tutte le informazioni inoltre troverete un capitolo dedicato alla programmazione che è un altro passaggio fondamentale per lavorare al meglio con i vostri cristalli ma la chicca più importante dell'intera guida è una tabella che comprende tutti i cristalli più comuni e i metodi di purificazione e ricarica e viene indicato quali di questi metodi è più adatto e quale no ai vostri cristalli proprio per non danneggiarli quindi sono davvero felicissima di aver creato questo documento per voi e sono felicissima di potervelo finalmente annunciare spero che potrà essere utile per il vostro lavoro con i cristalli ci ho messo veramente tutta me stessa ci ho lavorato per mesi e mesi secondo me è una guida veramente di valore spero che possa esservi davvero utile quindi detto questo spero che questo video vi sia piaciuto che vi sia stato utile fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo argomento e soprattutto cosa ne pensate della guida riattiva ai tuoi cristalli che vi ho finalmente annunciato oggi fatemi sapere tutte le vostre opinioni come sempre nei commenti io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao